Non era facile giocare anche in una situazione ambientale che era difficile questa vittoria della Roma? Sono tre punti importanti per mille motivi, per quelli che ci stanno davanti, per quelli che ci sono arrivati molto vicini sotto e anche per noi che siamo una squadra che fino a un paio di partite fa era in netta corsa per la Champions League che era l'obiettivo importante abbiamo perso due partite, quella con la Juve e col Palermo in maniera incredibilmente sfortunata e bisogna dirlo anche questo e ora cerchiamo di risalire fino a dove possiamo arrivare Ecco, dove potete arrivare? Perché in effetti adesso è il quarto posto, Lazio gioca tra poco a Milano è un obiettivo ancora perseguibile? Se perdesse la Lazio e magari non vincesse l'Udinese potrebbe riaprirsi un po' tutto quanto Però vediamo, insomma, siamo consapevoli che l'abbiamo buttato un po' prima il campionato, non sicuramente oggi tra... Per farci Menes per l'aggressione che ha subito, come l'hai visti? Visti bene, l'ho visti che hanno reagito con personalità come hanno sempre fatto poi ci può stare una partita migliore, una partita peggiore il gol mangiato, quello c'è stato e ci sarà sempre, insomma però ora di questa stagione colpevolizzare solo... Menes, Luci, Inceddoni mi sembra veramente una cosa ridica Mi chiedo un'ultima cosa Che merita, secondo me, di avere un posto nella Roma del futuro? Secondo me sì Secondo me sì, anche se poi sono veramente importanti, veramente veramente insomma, che incuriosiscono molto per vedere come potrebbero lavorare qui a Roma, senza citarne uno in particolare si leggono tutti i grandi nomi quindi loro altrettanto meriterebbero e la Roma avrebbe un beneficio dall'arrivo di questi grandi allenatori ma secondo me Montella è partito col piede giusto e potrebbe continuare ad essere il allenatore della Roma, senza problema Chiarissimo come sempre Riccardo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti